benvenuti benvenuti a questa puntata di stampa evangelo di martedì 30 novembre oggi chiudiamo il mese di novembre lo chiudiamo introducendoci diciamo così al periodo che ci porta al natale che è il mese di dicembre siamo anche liturgicamente nel periodo dell'avvento come sappiamo la questione sta diventando ogni giorno più importante la questione del natale oggi parleremo addirittura della parola natale che secondo il manuale sull'inclusività della comunicazione istituzionale della commissione europea deve sparire dai documenti e dalla modalità di approccio rispetto a tematiche che per essere inclusive devono cancellare i riferimenti alla religione cristiana questa è una cosa che è difficile da comprendere vieni vieni piccolina vieni vieni a salutare vieni ciao sai tutti ciao pure il cane tutti quanti ci siamo qui eh dove vai sono tutti amici che stanno seguendo papà che parla saluta dove vai sono amici amore mio non è una telefonata non è una videotelefonata sono tutti amici tu dove stai andando vai a scuola portata dalla mamma silvia che sembra papo natale pure lei un po befana eh no saluta tutti ciao ciao attenta che sei torcinata ecco qua questa è la sorpresa da casa di nolfi il buongiorno da tutti noi insomma da quella che ho attenzione ho detto moglie è un'altra parola che non si può usare secondo il manuale della della ehm commissione europea sul sull'inclusività secondo il manuale della commissione europea devo usare la parola partner non devo usare la parola moglie eh saluto chiara costantino che batte sempre nel mio cuore ciao chiara ehm ciao cristiana di Stefano ciao Gabriella lavorato Leonardo Bisori buongiorno insomma avete visto anche la rappresentazione fisica di ciò che vorrebbero cancellare è è comparsa mia moglie è comparsa mia figlia una delle figlie ma per loro non è da definire moglie bisogna definirla secondo la commissione eh europea il suo manuale di inclusività partner perché le famiglie che cos'è la famiglia eh non c'è più guardate il paradosso è interessante perché la commissione europea ci propone sostanzialmente un manuale sulla diversità sulla tutela della diversità ma per costruire la diversità le cancella tutte ci fa piombare in quella che Hegel definiva eh la notte in cui tutte le vacche sono nere è una definizione hegeliana che Hegel dà dell'assoluto schellinghiano l'assoluto schellinghiano cioè di Schelling secondo Hegel è la notte in cui tutte le vacche sono nere in cui appunto si perde eh la realtà della diversità della diversità anche qui si vuole fare una lezione sulla diversità ma costruendo una cancellazione delle diversità ovviamente partendo da dove partendo dal cristianesimo è impressionante il fatto che si dica eh che non si deve dire natale si deve dire vacanze e fanno proprio l'esempio com'è stressante il vaca il natale deve diventare come sono stressanti le vacanze tra l'altro con questa cosa per cui il natale sarebbe una cosa stressante ma anche lì c'è evidentemente una valutazione tipica ehm addirittura i nomi eh qui c'è proprio il paradosso dei paradossi non bisogna usare i nomi Maria e Giovanni chissà perché se la sono presa con Maria e Giovanni proprio espliciti è nel testo in un testo ufficiale della commissione europea perché se la sono presa con Maria e Giovanni ancora qui una volta ancora una volta ci aiuta il nostro fare stampa evangelo cioè oggi trovate queste eh queste tematiche sulla stampa su tutti i giornali alcuni fanno anche l'apertura il giornale il resto del carlino titola in prima pagina giù le mani dal natale ehm trovate un'arte una paginata anche sul Corriere della Sera quindi questa è stampa stiamo facendo rassegna stampa però andiamo sul Vangelo e il Vangelo di oggi curiosamente è proprio il Vangelo di Matteo della chiamata dei primi apostoli Pietro e Andrea e quindi auguri oggi in realtà è Santa Andrea quindi auguri a tutti gli Andrea a partire da Andrea Brenna eh segretario nazionale del popolo e della famiglia ehm e subito dopo nel Vangelo di oggi vengono chiamati Giacomo e Giovanni Giovanni guarda la la coincidenza nella giornata in cui sulla stampa troviamo che non bisogna usare la parola Giovanni se voi siete andati alla messa feriale o andrete alla messa feriale come vi invito sempre a fare prima di stampa evangelo dopo stampa evangelo vi troverete Gesù che proprio chiama il nome Giovanni e lo chiama tra i primi quattro suoi eh discepoli sarà reo giustamente peraltro qui in diretta ricorda che il nome Maria è usato dai musulmani ehm Davide Bulzomi mi manda un link da bufale.net perché molti hanno detto che poi la commissione europea ha corretto il tiro dicendo che questo è solo un documento interno sulla comunicazione interna della commissione europea eh non ha a che fare con la cancellazione del Natale cristiano eccetera eccetera eh resta che il documento è dettagliatissimo è un documento veramente è vero che è un documento interno ma è un documento dettagliatissimo che sembra proprio indicare la strada di una nuova cancel culture che ha però il l'orrenda condizione di essere istituzionale di vertice già la cancel culture è insopportabile se ha una spinta movimentista di base pensate a quello che sta accadendo negli Stati Uniti con i movimenti Black Lives Matter che vogliono cancellare tutti i riferimenti del passato assegnando loro sostanzialmente una cultura schiavista da Cristoforo Colombo in poi è già insopportabile se questa cultura della cancellazione proviene da movimenti di base ma se si costruisce una tenaglia in cui ai movimenti di base si sommano operazioni verticistiche dei vertici istituzionali di un intero continente quali sono quelli che fanno riferimento a Ursula von der Leyen che poi sarebbe una depocristiana tedesca una che dovrebbe avere una cultura cristiana al fondo della propria preparazione politica beh allora lì c'è veramente da preoccuparsi vuol dire che si sta stringendo una tenaglia e rispetto a questa tenaglia occorre compiere operazioni di resistenza segnalo tra le operazioni di resistenza quella di Lucianella Presta nostro consigliere comunale è eletto a pianezza che per qualche ora è stata nell'occhio del ciclone per aver contestato la pubblicità norvegese col Babbo Natale Frocio ed è presente no che ci hanno voluto propinare e ovviamente far diventare da pubblicità delle poste norvegesi un manifesto worldwide di Gaiezza e davanti a questo manifesto worldwide di Gaiezza abbiamo risposto col consigliere comunale di Pianezza che ha tutto il sostegno del popolo della famiglia che ha espresso parole nette in cui ha fatto riferimento anche alla religione cristiana così si impara chi vuole cancellarla dalla dimensione pubblica istituzionale e come si ha libertà di trasformare Babbo Natale cioè una figura diciamo così centrale per l'immaginario dei bambini in un esponente LGBT beh noi abbiamo la libertà di far riferimento alla nostra cultura di riferimento appunto la nostra cultura radicale cioè di radice e questa cultura di radice è appunto quella cristiana e adesso abbiamo fatto riferimento pur causando scandalo io trovo incredibile che causi scandalo il riferimento che fa Lucianella Presta in consiglio comunale a Pianezza su Gesù o su Satana mentre invece vada bene toccare l'immaginario dei bambini raccontando che Babbo Natale è frocio si scusa Jacopo Pioli dice le parole ci sono usiamole ragazzi così si dice e se è diventato causa di scandalo usare una parola che uso senza intenti di insulto ma evidentemente non è tenti descrittivi se Babbo Natale deve diventare così io lo descrivo per quel che è quella descrizione che viene offerta quindi il popolo della famiglia a partire dal suo presidente si stringe attorno a Lucianella Presta e non accetta atteggiamenti ricattatori non accetta questioni politiche che vogliano venire a mettere il naso nella modalità con cui noi del popolo della famiglia intendiamo esprimerci politicamente anche facendo riferimento al nostro reto terra religioso e consideriamo questione politica quella posta da Lucianella Presta che evidentemente non può essere compressa nella sua modalità d'espressione la libertà d'espressione sacra la linea politica del nostro partito e le modalità con cui si esprime non ce la dettano nessuno fuori dal popolo della famiglia mi rendo conto che Lucianella è capogruppo tra l'altro assolutamente corretta e sempre dell'intera maggioranza al comune di pianezza ma è anche il coordinatore regionale del popolo della famiglia e se il popolo della famiglia ha qualcosa da dire lo dirà senza che nessuno osi sindacare quello che noi abbiamo da dire ci possono contrastare come ci hanno sempre contrastato possono attaccarci non potranno mai zittirci e chi chiede lettere di scuse o pensa di poter costruire una retromarcia attorno a questi temi sappia che noi su questi temi saremo sempre molto diretti molto chiari molto franchi e sosteniamo ovviamente i nostri dirigenti di vertice quale Lucianella Presta è nella loro funzione politica e lo ripeto come noi non andiamo a sindacare le valutazioni che altri fanno nei loro partiti che altri dei linguaggi che altri compiono e mettono in atto durante la loro battaglia politica noi evidentemente non accetteremo di essere sindacati nella nostra è stata il cuore della battaglia sul ddl zan quella di salvaguardare la libertà d'espressione di tutti lo ripeto il popolo non si faranno mai intimidire resteranno sempre e assolutamente fermi sulle loro posizioni in difesa della libertà d'espressione a partire dalla libertà d'espressione dei cristiani che non sarà conculcata né da von der Leyen né da fantomatici dirigenti politici piemontesi né da chi crede di intimorire una nostra combattente semplicemente perché ha osato parlare come deve parlare un dirigente del popolo della famiglia senza vergognarsi dei suoi riferimenti ecco chi siamo sappiatelo bene e per questo esiste il popolo della famiglia altrimenti per fare le tarantelle e le mezze misure ci sono tutti gli altri partiti degli schieramenti possibili chi milita nel popolo della famiglia milita in questo senso e sicuramente milita dicendo con chiarezza a ursula von der Leyen che il suo documento è per quanto ci riguarda carta straccia è irricevibile restano per sempre le divisioni che sono evidenti perché sono differenze di natura tra lui e lei tra marito e moglie tra figlio e figlia i gay si chiamano gay le lesbiche si chiamano lesbiche senza doverci girare troppo intorno perché questo sono se scappa un frocio nessuno si deve arrabbiare perché può scappare così come scappa un ciccione nei miei confronti ed è un vezzeggiativo ovviamente tutti devono essere rispettati tutti nella loro condizione ma non è che i cristiani poiché sono miti devono essere rispettati di meno possono essere calpestati possono essere calcellate le loro festività religiose possono essere cancellati i loro riferimenti più profondi ma no questo non sarà consentito evidentemente è un'europa che volesse rinunciare in maniera così fragorosa alla sua radice cristiana beh è un'europa che si ritroverebbe ben presto incatenata la propria maledizione questa è la verità jacopo pioli mi chiede conto delle dichiarazioni deliranti di mario monti lo so che hai scritto a riguardo non solo scritto ma c'è un'intera puntata di ieri di stampa evangelo dedicata alle dichiarazioni di mario monti quindi una volta chiusa questa puntata va indietro di due post e trovi la puntata di ieri di stampa evangelo caro jacopo anche se scrivi dalla cina ti devo rimandare alla puntata di ieri saluto diana bariggelletti marco russo visto passare la vigna olivieri fa la la vigna oliveri scusate fa la consulente e giustamente consiglia al nostro jacopo pioli di seguire la puntata di ieri stampa evangelo dedicata interamente proprio alle dichiarazioni di mario monti dalle notizie che oggi non ci sono sui giornali voi sapete facciamo rassegna stampa di ciò che c'è come la questione della cancel culture di ursula von der leyen e questa c'è su tutti i giornali anche su molte prime pagine dei giornali di oggi facciamo anche il nostro lavoro per ricordare ciò che sui giornali invece non c'è e purtroppo ancora una volta dobbiamo segnalare il suicidio di un operatore di polizia ancora una volta un poliziotto che si spara in testa un poliziotto ancora una volta più o meno della mia età stavolta un pochino più grande 57 anni sposato con due figli oggi la morte è arrivata ieri ieri sera arrivata a ariano irpino stiamo parlando della campagna stiamo parlando del sud mentre nella puntata di ieri abbiamo salutato un 50enne lavoratore della dicos poliziotto della dicos che si è sparato in questura a torino anche qui un marito e padre di quattro figli io sono incredulo nel segnalarvi che queste notizie sulla stampa mainstream non si trovano sul fatto che nessuno vada a indagare qual è la condizione di malessere delle nostre forze dell'ordine e ancora una volta stampa evangelo lo scrive mirco de carli è il luogo dove le non notizie si trovano dove le notizie vengono date solo qui a me sembra che questo disagio meriterebbe un'indagine giornalistica un'inchiesta un approfondimento invece no su quanto riguarda la polizia trovate solo la notizia a tutta pagina su tutti i giornali della dirigente schilirovi ricordate la dirigente delle manifestazioni novax che si è presa al covid quella notizia sul fatto che la schiliroa abbia preso il covid la trovate su tutti i giornali tutti i quotidiani di oggi hanno addirittura c'è chi ha una paginata con la schiliroa che prende il covid perché era una novax che faceva le manifestazioni in piazza appunto contro il green pass e contro i vaccini ora la schiliroa è malata di covid è diventata notizia su tutti i giornali papà di famiglia padri di famiglia uno dopo l'altro si scaricano la loro beretta d'ordinanza in testa uno dopo l'altro mi confronto l'ho detto già nella puntata di ieri molto spesso in particolare con il nostro nicola di matteo coordinatore nazionale che è anche un agente della polizia di stato e so che questi fatti sono ormai all'ordine del giorno e io adesso me ne sto dando conto giorno dopo giorno a torino come arianirpino dal nord come al sud ma ogni giorno c'è una tragedia di questo genere che non trovate sui giornali non viene indagata la ragione non si cerca di capire quali sono le ragioni profonde di questo malessere delle forze dell'ordine e io provo a lanciare questo allarme ancora una volta perché a noi del popolo la famiglia interessano le persone e le famiglie immaginare il dolore immenso che può provocare la morte di un papà in famiglie con figli ci fa stringere intorno ai cari di coloro che sono in questa condizione ci fa dire che forse ancora una volta servirebbe un altro giornalismo altre priorità della politica altra attenzione al grido dei penultimi fatemi fare citazione del mio ultimo libro altra concentrazione sui bisogni reali non su quelli irreali mentre invece qui si preoccupano di non farci dire buon natale si preoccupano di non farci usare la parola maria e di non farci usare la parola giovanni per fortuna e qui c'è don natalino bonazza che può confermare credo abbia celebrato messa al mattino almeno nel vangelo di oggi possiamo dire la parola giovanni perché è gesù che chiama giovanni a sé per portarlo tra i primi suoi discepoli federica lupi dice ma il divieto di chiamarsi maria parte da questo natale oppure retroattivo mio figlio filippo maria è un po preoccupato hai ragione federica a farci anche sordidere saluto silvio rossi autore di un articolo che segnalo sull'eutanasia se lo riuscite a trovare credo che lo abbia pubblicato sulla sua pagina facebook e sarà anche pubblicata pubblicato sul prossimo numero cartaceo della croce che esce come strena natalizia per i nostri abbonati e arriverà a tutti a casa appunto come regalo di natale ci troverete sopra anche un bell'articolo di silvio rossi sul tema eutanasia carlo ranucci ci dice non è questa l'europa che vogliamo assolutamente saluto andrea brenna forza popolo della famiglia viva stampa evangelo viva la croce quotidiano viva la realtà della sana informazione intanto auguri a andrea brenna attraverso lui tutti gli amici che si andrea oggi per il loro per il loro onomastico mi perdevo perché ho letto che ferdinando carignani si sposa tra qualche ora mi fa molto piacere auguri un nostro amico a trevignano saluto rosario murro che è il nostro coordinatore in umbria insieme a saimir saluto alessandro pier sigilli che fa la battuta sulla maria quella lì diciamo che si fuma natalino bonazza non solo possiamo abbiamo la libertà di dirlo senza alcuna censura degli euro burocrati dice don natalino bonazza e almeno oggi nel vangelo di oggi la coincidenza divertente di aver messo la parola giovanni nel giorno in cui l'europa dice non lo dobbiamo dire è assolutamente interessante e divertente saluto grazie a ruini che parla di suicidio come tragedia e non come bucolico diritto e questa è un'altra delle enorme contraddizioni del nostro tempo saluto mauro rotellini margherita ruffino domenico gallo che secondo lui giovanni l'hanno confuso con giuseppe può essere maria e giuseppe non erano abbastanza cristianamente colti si sono buttati su giovanni e volevano dire giuseppe può essere caro domenico saluto renzo hermano jacopo pioli risposta alessandro pier sigilli scrive interessanti in effetti quella maria la rendono legale o illegale altra cosa che troviamo sui giornali di oggi è la cronaca della conferenza di genova sulle droghe dove sembra prevalere questo cretino istinto a legalizzare le droghe leggere ma insomma è una conferenza che grazie a dio non avrà alcuna incidenza poi sulla realtà legislativa del nostro paese io vi ringrazio non ho fatto la richiesta come solito però fatelo insomma se la puntata vi è interessato fate un like alla diretta perché ci serve per scandagliare e crescere nelle algoritmi di facebook che in effetti mi sembra che siamo sempre di più a seguire stampa evangelo fin dall'inizio quindi questo ovviamente porta il nostro messaggio ben al di là dei nostri soliti e consueti confini vi chiedo come sempre la condivisione sul vostro profilo e infine il link fatelo girare sulle varie chat whatsapp del pdf operativa nazionale operative regionali e sui gruppi telegram e messenger che fanno riferimento appunto al popolo della famiglia vi ricordo 11 e 12 di dicembre assemblea nazionale del popolo della famiglia pomezia iscrizioni ancora aperte il riferimento a nicola di matteo lo trovate anche qui in diretta se volete chiedergli come fare per partecipare all'assemblea nazionale io saluto antonio a del buto vi informo che per il fatto che la ursula von der leyen abbia invitato a smetterla con gli auguri di buon natale niente mi sono perso la scritta se eri in tanti a scrivere ogni tanto mi perdo saluto anche flavia lanci carlo beffa fabio sebastianelli cristina zaccanti che ringrazia per le parole chiare e decise cercheremo sempre di essere molto chiari e questo è il lavoro che noi cerchiamo di fare cioè essere molto molto chiari in maniera che ognuno possa poi riferirsi al popolo della famiglia sapendo bene quello che dice dal muto antonio devi fare una comunicazione più breve perché se la scrivi così lunga non riesco a leggere ho solo quattro righe di lettura mentre faccio la diretta dovevi premere i bottoncini e poi mi si incasina tutta la diretta noi domani torniamo con stampa evangelo come sapete sempre dalle 8 e 55 don natalino bonazza invita a mandare tutti ad ursula von der leyen un biglietto di auguri di buon natale magari don natalino con una bella scena di sacra famiglia sul biglietto d'auguri perché così capiscono pure che cos'è la famiglia un saluto faccio anche a grazie perciò a continuarete a continuare 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 a continu